Orientarsi alla sostenibilità per costruire un percorso aziendale di successo è la nuova sfida lanciata da Confindustria Salerno che questa mattina ha tenuto un incontro proprio per promuovere la tematica. È uno stimolo alle aziende per mettere a sistema delle attività che già si fanno anche per arrivare poi ad avere una riportistica che oggi è obbligatoria solamente per aziende di determinate dimensioni o per società quotate che io credo in futuro si estenderà come obbligo ma credo che debba anche essere fatto in maniera volontaria per avere a fine anno non solamente un report di natura economica su quanto si svolge all'interno dell'azienda ma anche per tutte le attività di carattere non finanziario. Un impegno che Confindustria Salerno ha assunto da tempo non a caso il presidente Antonio Ferraioli all'atto del suo insediamento ha voluto istituire proprio la delega alla sostenibilità. Vediamo che in futuro non potranno che esistere aziende sostenibili con una grande attenzione a quelli che sono tutti i temi non solamente economici ma anche ambientali e di governance e soprattutto sul sociale. Temi che potranno garantire un contributo fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle aziende. Più diventerà un tema strategico per tutte le aziende. Quello che noi vogliamo fare oggi è creare cultura e faremo poi a seguire con una serie di altri interventi cultura su questo concetto. Stimolare tutte le aziende della nostra territoriale a pensare in termini di sostenibilità a investire in sostenibilità e poi alla fine anche importante a formalizzare e quindi a redigere probabilmente un bilancio di sostenibilità.